Più 25%. Il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di aumentare di un quarto i canoni delle concessioni demaniali marittime. Tutti gli operatori del settore turistico balneare veneziano, compresi i gestori dei campeggi, esprimono la loro perplessità e preoccupazione. L'aumento, evidenzia Francesco Berton, presidente di Asso Camping Cavallino Treporti, ha aggiornato i valori dei canoni all'Istat, ma è notevolmente superiore al tasso di inflazione dei prezzi al dettaglio. Le conseguenze, dicono gli operatori del settore, saranno quelle della fuga dei turisti italiani verso le località balneari oltre confine e le grandi difficoltà economico-finanziarie in cui si troveranno le nostre imprese. Un aumento discusso con nessuna associazione di categoria, afferma il presidente di Asso Camping, e che arriva in un periodo di forti destabilizzazioni, generate dagli aumenti smisurati e imprevedibili dei costi energetici e delle forniture di beni e servizi.